In collegamento da Roma a David Parenzo Il suo inutile servizio David Parenzo Radio 24 Il sole 24 ore Roma Questa è la cosa che adoro di più Anche la gente mi ha detto che apprezza David Parenzo Perché tu puoi dire anche delle cose incredibili Anche dell'obietà Però se tu lo dici Alle 19 draghi da Mattarella al Quirinale Delle prossime ore Tutte le ultime notizie David Parenzo, Radio 24 Il sole 24 ore Roma Ci ha scritto dappertutto Però se tu lo dici bene Ha un senso questo Poi un'altra notizia pazzesca La vuoi un'altra notizia pazzesca o no? Il collegamento da Padova 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 Grazie.